Io sono la queen dell'autoreonia Assunta legnante per Ability Channel, scegli il tuo numero Numero 4, come le Paralimpiadi a cui ho partecipato Il pensiero che ti viene in mente quando conosci una ragazza o un ragazzo Comincio ad immaginare come è fatto fisicamente, mi piace immaginare 23 Riesci a fare ironia sulla tua disabilità? Ma voglia, io sono la queen dell'autoreonia Gli amputati hanno l'arto fantasma, io ho la vista fantasma Sbatto dappertutto a casa pur vivendo da sola perché mi scordo di essere vedente a volte Numero 35 Il tuo piatto preferito? La pizza, ho io da buona napoletana la pizza, la pizza 44 C'è un dettaglio che cambieresti del tuo passato? Avrei voluto essere cieca fin dall'inizio, fin dalla nascita Per non avere il cambiamento improvviso da una vita all'altra Non dico il non diventare cieca perché magari quello era il mio destino Se lo fossi stata già da prima avrei digerito meglio la cosa 62 Essere leggeri e essere superficiali, qual è la linea di confine? La leggerezza magari è dimenticarsi di dire a una non vedente Andiamo a guardare un film L'essere superficiali è non fare in modo di non mettere a proprio agio la persona disabile O me in quell'occasione Ciao Ability!